Allora, al 12 ottobre vi dico che per quanto riguarda la condizione fisica dei nostri giocatori sono un po' a sorpresa perché sinceramente non pensavo che Dybala fosse ancora in condizioni di non allenarsi quindi fermo Dybala ancora e fermo anche il Sharawi il 20 c'è una partita cruciale per questa fase della stagione contro l'Inter poi c'è il 24 anche la gara di Europa League con la Dinamo di Kiev che va vinta assolutamente e che potrebbe vedere in campo secondo quello che sento anche Matt Hummels finalmente direi poi c'è l'Efe che si sta allenando ma con un tutore al ginocchio quindi anche lui non è che sia proprio in... non lo so sinceramente se sarà in grado di giocare quanto contro l'Inter sono rientrati intanto alla base Saud Abdulhamid e Lorenzo Pellegrini in quanto essendo stati squalificati per la successiva partita con la loro nazionale sono ritornati a disposizione della loro squadra ma quello che davvero mi lascia un po' basito è questa problematica che si protrae nei tempi di recupero per Paolo Dybala perché noi praticamente contro l'Inter senza Di Bala e poi in quadri certamente anche senza Isharawi ci schieriamo con Dobbi il prima punta e due punte dietro che saranno Pellegrini perché tanto Pellegrini non è mai in discussione per gli allenatori che lo allenano e uno fra Baldanzi e Sulema sinceramente credo che senza Di Bala contro l'Inter la Roma perde molte delle sue possibilità perché è un giocatore che è l'unico giocatore che come sapete ha un livello di qualità talmente alto che può impensierire veramente anche le difese delle squadre più forti del nostro campionato vedremo un po' nei prossimi giorni è chiaro che se ancora al 12 è fermo anche se dovesse scendere in campo tra l'altro rischiando sicuramente non si fa tutta la partita bisogna vedere soprattutto in quali condizioni è perché quando lui gioca col freno a mano tirato perché non sta a posto abbiamo visto che il rendimento purtroppo scema non di poco